Battere il Cittadella. Il Pescara è chiamato a dare un calcio all'avvio incerto di campionato e per farlo a un solo modo, conquistare i tre punti sabato prossimo al Tombolato dove proprio l'anno scorso iniziò la risalita del Pescara di Pasquale Marino. Due punti in tre gare rappresentano un bottino troppo magro per una squadra che dopo l'ultima fase di calcio-mercato ha visto aumentare le proprie ambizioni. Dopo 270 minuti di torneo, oltremodo prematuro dare giudizi e fare un seppur minimo bilancio, ma è altrettanto vero che i numeri del Pescara di Marco Baroni non sono quelli che i tifosi si aspettavano. Due punti sui nove in palio, tre reti realizzate, tutte su calcio da fermo e quattro subite, di cui tre tutte in una gara, quella con il Bologna. Il Pescara, come dice giustamente il suo condottiero, è ancora un cantiere. Il cartello dei lavori in corso è ben visibile. La squadra, cambiata per molti undicesimi, deve ancora acquisire la giusta mentalità e i dettami tecnici del suo allenatore, ma al di là di tutte queste considerazioni, sicuramente vere e inconfutabili, c'è anche qualcosa da rivedere perché dopo un buon precampionato l'avvio di torneo è stato ben al di sotto delle attese. Analizzando reparto per reparto, c'è da sottolineare che Marco Baroni, per scelta ma anche per necessità, ha dovuto cambiare sempre i centrali di difesa, alternando i vari Ciosic, Zuparic, Pesoli e l'ultimo arrivato Salamon. Grillo e Pucino hanno assicurato invece un buon contributo, anche se molti aspettano di vedere all'opera l'ex veronese Zampano. A centrocampo Appelpire può fare di più, almeno in attesa del rientro di Gaston Brugman, che avverrà però a fine anno. L'impressione è quella che il centrocampo faccia poco filtro, lasciando spesso i due centrali di difesa scoperti. Poi l'attacco con cinque reti nei cinque partite ufficiali fra Coppa Italia e campionato. Uno è bottino tutt'altro che eccezionale, soprattutto contando che le ultime tre reti sono scaturite, come dicevamo, da palla inattiva. Vero è che il Pescara nelle gare di campionato è stato molto sfortunato. Anche la dea bendata non è stata generosa con il Delfino, ma all'annetto della malasorte si è concretizzato troppo poco rispetto alle tante, troppe occasioni create. Solo con il Trapani, Maniero e compagni hanno fallito qualcosa come dieci opportunità dinanzi alla porta siciliana. Col Bologna è andata meno bene, ma nonostante tutto i Biancazzurri le loro occasioni le hanno avute, sbagliando ancora. Ora c'è il Cittadella e il tempo delle parole dovrà essere seguito dai fatti.